E' la commozione dei poveri a colpire Papa Francesco. Nell'udienza in aula Paolo VI, in 4000 sono giunti da 22 paesi diversi per il giubileo degli esclusi. Al pontefice hanno raccontato le loro fatiche di vita e a loro, parlando a braccio in spagnolo, il Papa ha chiesto perdono per ogni volta che i cristiani non hanno letto il Vangelo, che è al centro la povertà, e per questo si sono voltati dall'altra parte. Perdono, ha aggiunto, se a volte vi offesi con le mie parole o per non aver detto le cose che avrei dovuto dire. Il perdono, ha proseguito il Papa, è acqua benedetta e pulizia per noi. Aiutateci a credere ancora che nel cuore del Vangelo c'è la povertà come un grande messaggio non solo per i cattolici cristiani, ma per tutti, che dobbiamo avere una chiesa per i poveri e che ogni uomo e donna devono vedere Cristo nei poveri. La riflessione di Papa Bergoglio ha preso spunto dalle testimonianze di Christian e Robert che avevano sottolineato di avere gli stessi sogni e le stesse passioni dei grandi della terra. Ma come sono i sogni di un povero, di uno che non ha tetto? Come saranno? Ha chiesto il Papa. Sognavate di venire a Roma e si è avverato, vuol dire che tutto può cambiare. Così la passione, la buona passione, ha aggiunto Francesco, ci porta a sognare e ad andare avanti. Non smettete di sognare, ma insegnateci a farlo a partire dal Vangelo. Poveri sì, ma non schiavi, ha ribadito il Papa, che ha evidenziato come la dignità sia saper essere solidali, saper dare la mano a chi sta soffrendo più di me. Così l'esortazione è stata quella di insegnare la solidarietà al mondo. Al termine del suo intervento, Papa Francesco ha pregato con i poveri, che hanno imposto su di lui le loro mani in segno di benedizione.